Salve amici del Centro Medio Italiano. Secondo weekend di maggio che si prospetta all'insegna di piogge temporali e clima piuttosto fresco. Perturbazione atlantica che nelle prossime ore farà il suo ingresso sul Mediterraneo portando una fase di maltempo sull'Italia. Tra giovedì e venerdì ecco l'isolamento di una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota tra Europa e Mediterraneo. Manterrà attive condizioni di stabilità su buona parte della penisola. Principali modelli che per il prossimo weekend mostrano l'evoluzione della goccia fredda verso est con un coinvolgimento diretto dell'Italia e una nuova fase di maltempo. Da segnalare poi clima molto fresco con temperature di qualche grado al di sotto delle medie, almeno fino a metà mese. Seguite comunque tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.